buonasera e bentornati alla rubrica culturale hashtag libri liberi a breve ci apprestiamo a festeggiare il santo natale e così ho pensato di suggerirvi la lettura di questo libricino il nome della madre di eri de luca che ringrazio anche per avermelo autografato il nome della madre che cos'è è semplicemente la storia di maria miriam e giuseppe joseph è una storia che resta e resterà sempre molto misteriosa e sacra ma l'autore è riuscito a farci entrare in questo cammino luminoso con molta sapienza e con molta intensità e per voi ho scelto un brevissimo estratto che ora mi appresto a leggervi miriam sai cos'è la grazia non di preciso risposi non è un'andatura attraente non è il portamento elevato di certe nostre donne bene in mostra è la forza sovrumana di affrontare il mondo da soli senza sforzo sfidarla a duello tutto intero senza neanche spettinarsi non è femminile non è di profeti è un dono e tu l'hai avuto chi lo possiede è affrancato da ogni timore l'ho visto su di te la sera dell'incontro e da allora l'hai addosso tu sei piena di grazia intorno a te c'è una barriera di grazia una fortezza tu la spargi miriam pure su di me queste sono parole da meritarsi abbracci e con questo abbraccio con questo abbraccio culturale questo abbraccio di mistero di luminosità di speranza di bellezza vi auguro un santo natale grazie paola mazza grazie grazie grazie